e qui al festival dischi anche Massimo Ghini in tutta la sua simpatia ciao Massimo ciao 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 buonasera a tutti con la mia simpatia beh sì niente può fermarci il padre particolare di un figlio ancora più particolare perché è drogato di internet il padre fa l'analista psichiatra di fama e questo personaggio mi ha divertito moltissimo perché c'è una contraddizione meravigliosa in questo personaggio che naturalmente sembra essere quello più adatto a governare una situazione di difficoltà con un figlio appunto affetto da una sindrome e che invece ogni volta che apre bocca dice delle cose di una banalità mostruosa e quindi altrettanto comica e divertente mi piaceva perché poi non avevo fatto non sono adatto fisicamente ad essere chiamato a interpretare ruoli del genere questa è stata una bella occasione un film quindi che esplora anche il rapporto fra genitori e figli sì io ancora non l'ho capito bene pure avendo fatto quattro figli con i quali sto navigando insieme meravigliosamente con le difficoltà le gioie e tutto quello che significa un rapporto normale tra padri e figli dico questo perché vengo adesso da tre esami due hanno finito la maturità promossi e l'altra ha fatto l'esame di terza media che era per lei tragico quanto essendo il primo quanto la maturità degli altri per cui è una prova continua di un mestiere che non ti insegna mai nessuno peraltro quindi lo impari giorno per giorno se hai voglia di impararlo e io credo di essere nella media un padre che fa tanti errori ma ci mette tanta buona volontà un film particolare questo diverso da quelli insomma che si vedono in giro come è nato il rapporto con il regista e cosa hai pensato quando hai letto la sceneggiatura? ma il rapporto è nato con il regista perché era anche un amico di vecchia data nel senso che poi è uno che si avvicina al cinema passando anche attraverso altre esperienze e questo è un bene perché il cinema ha bisogno di alimentarsi di persone che vengono attraverso anche da esperienze diverse cioè la vita poi riportata all'interno del meccanismo cinema il rapporto con la sceneggiatura dico la verità che quando ho letto questa cosa mi hanno convinto due motivi allora il primo no era proprio sulla sceneggiatura sull'idea e l'altra che avevo pochissimo tempo riuscivo a farlo in poco tempo che stavo girando un altro film però mi divertiva proprio l'idea di essere poi in un cast comunque interessante è il mio secondo film insieme a Depardieu perché ne avevo fatto già uno con Gerard e ci siamo divertiti come al solito perché Gerard è un personaggio straordinario ma anche molto meravigliosamente folle quindi di nuovo un bellissimo incontro bene grazie Massimo grazie ciao